Ciao a tutti, Gamer! Io sono Stefano e questo è il mio canale YouTube. Ricordatevi di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like e di attivare la campanella per non perdervi i miei prossimi video. Oggi sono qua su StumbleGuys e come vedete il pass l'ho finito. E c'è da girare una skin rara o superiore che lo faremo alla fine. Quindi dovrete vedere tutto il video. Iniziamo subito con una partitella. Ho 995 gemme, tra poco arriverò ai 1200. E 58 gemme in Istanbul, devo arrivare ai 70 e poi farò un bel video, ok? Quindi iscrivetevi. Iniziamo subito. Prima mappa, prima giocata. Speriamo una mappa bella. Ok, perfetto, bellissima mappa. Ok, adesso dobbiamo giocarla al meglio possibile. Ok, vediamo se riesco a fare il trick. No, non ci sono riuscito. Cioè a metà ci sono riuscito. Forse ce la faccio di qua. Più o meno. No, sono caduto. Sono caduto, sono caduto. Dai che recupero. Dai, 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 dai. Oh, e quelle che fanno... No, com'è che faccio? E vabbè, eliminato. Prima partita andata. Lasciamo stare. Andiamo subito alla seconda. Cambio personaggio qua skin. E metto la gallina nera. Ok. Bella mappa. Adesso la dobbiamo giocare. Iniziamo subito davanti. Quindi, perfetto. Sono il primo. Doppio salto. Adesso si va per la vittoria. Vai. Ok. Adesso dobbiamo fare il secondo round. Seconda giocata. Quindi seconda mappa. Vediamo, vediamo un po'. Ok, perfetto. La devo giocare al meglio. Provo a fare anche i trick. Vediamo se mi escono. Allora, qua vado qua. Sì, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Vado, 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 vado. No. Ok, ok. Mamma mia. No, no. Ho fatto bene fino a lì. No. Cavolo. Ero il primo. E vabbè, comunque mi qualifico lo stesso. Quindi, quindi... No, ma, ma... Perché? 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 Esistono questi pugni? Eh, tra poco ce l'avrò anch'io per il pass. Quindi. Seconda giocata. No, terza giocata. Siamo in finale, quindi. Sì. Oh, oh. Scivola. Perfetto, perfetto. Qua la devo giocare al meglio. Non so giocarla. Cioè, non so giocare a questa mappa. Però... Ci proverò. Ok, perfetto. Sono già ultimo. Ma... Lasciamo stare dai ragazzi. Qua... Mi dovete... Oh, oh. Il mio primo tricolo fatto, dai. Adesso faccio... Sì, vabbè. No, mi era venuto! E che cavolo, no? Non l'ho rincorsa? Ok. No! E vabbè. Eh, qua devo un po' imparare. Lo so. Lo so. Lo so. Però... Piano piano imparerò. E anche seconda partita è andata. È arrivata l'ora di girare la ruota. Di fine passo. Pronti? Partenza. Riscossa. Uff! Dai. Leggendaria, leggendaria. No! Cos'è? Ma io ce l'ho già. No, non ci credo. Doppiona. Ah, no, però, quanti ne ho qua? 66. Dai, me ne mancano 4. Domani allora farò il video che prendo due epiche o superiori. Domani. Vabbè ragazzi, questa girata è andata così. Sarà per la prossima volta la leggendaria o la speciale, anche se in quell'erario superiore non c'è. Lasciamo stare. Se vi è piaciuto un video lasciate un like e iscrivetevi. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao! 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 Grazie per la visione!